È un progetto che si pone l'obiettivo di far fare delle esperienze di imprenditori che operano nel settore dell'agricoltura e dell'agriturismo presso aziende estere in modo tale da consentire loro di accumulare una forte esperienza in ciò che si fa anche in territori diversi dei nostri. Ma ugualmente ha anche l'obiettivo di far venire in Italia giovani imprenditori esteri per far vivere loro un'esperienza all'interno delle nostre aziende. E quindi da ultimo l'obiettivo finale è quello di far parlare gli imprenditori europei e quindi di far crescere la cultura europea in questo settore. In questo senso il Tucep assieme alla Camera di Commercio italiana presso Madrid ha creato una partnership forte per gestire questo progetto che è stato finanziato dall'Unione Europea.